A ciascuno è affidata una missione. 8 maggio 1974 Figli i miei diletti, sono in mezzo a voi. Ravvivate la vostra fede e credete che, allorché voi elevate la vostra preghiera a Dio per invocare aiuto, noi siamo lì attenti alle vostre invocazioni, desiderosi di aiutarvi in tutto. Siete tutti cari al mio cuore, e come una mamma può curarsi dei propri figli specie se li vede piccoli e malati. Così, io che vedo con quanta umiltà vi rivolgete a me, e quanto siete bisognosi, non posso trascurarvi. Oggi però voglio darvi un insegnamento quanto mai importante. Voglio insegnarvi a compiere con perfezione i vostri doveri, perché possiate sempre essere membra efficienti che lavorano efficacemente per l'avvento del regno di Dio. Voi siete venuti al mondo, e nessuno di voi può dire di essere nato sotto una cattiva stella, perché siete nati sotto il segno della croce che deve essere la vostra salvezza. Anche per voi nel cielo c'è un seggio, un posto glorioso preparato da tutta l'eternità, che dovete conquistare. A ciascuno di voi però il Signore ha affidato una missione. Nessuno può dire che la propria missione è inutile, o da poco. Ciascuno ha un compito da svolgere nella vita che avrà una ripercussione nell'eternità. Ognuno di voi è un collaboratore o una collaboratrice dell'opera di redenzione. C'è un limite al vostro campo di lavoro, ma il riflesso di ciò che voi fate si protrae nel tempo e nello spazio. Ogni cristiano deve assomigliare a Gesù. Osservate che cosa fece il mio divin figlio. Visse, lavorò, soffrì e morì nella terra di Palestina. Ma la sua opera e l'eco dei suoi insegnamenti, dati per mezzo dell'esempio e della parola, si protraggono nel tempo. Così Giuseppe, mio diletto sposo, visse la sua vita semplice e laboriosa a Nazareth, e tutto era così uguale al comportamento degli altri uomini, tanto per Gesù come per Giuseppe, che si sarebbe detto che con la loro morte tutto sarebbe finito. Anche per me fu la stessa cosa. Io ho compiuto nella mia vita tutto quello che fanno le buone mamme. Dal bucato alle pulizie, ho preparato il pane, ho accudito alle faccende, ho lavorato di cucito come tutte voi. Forse che la missione di un uomo o di una donna finiscono nella limitatezza delle opere compiute con le mani o con la parola o con la mente. Avreste potuto dire che Gesù, il figlio di Dio, aveva fatto un grande fallimento, se così fosse. Oh no! La missione di un'anima nel mondo è quel complesso di azioni che servono a testimoniare la propria fede, il proprio amore, la propria speranza. Vi è stato detto molte volte che dovete essere le pietre vive che compongono la Chiesa. Non potete essere vive se la vita di Dio non circola in voi. La grazia è come la linfa che circola nel corpo e tiene uniti i diversi organi. Se considerate una parte del corpo in se stessa, non avete che un'idea imperfetta del corpo umano. Così, se vi considerate come parti divise e vedete la vostra missione ad una luce puramente umana, troverete che, quando avete condotto a termine i vostri impegni familiari e sociali, siete perfettamente a posto. La missione che il Signore affida ai Suoi figli è molto più importante. Esercitando la fede, il cristiano cresce nella vita spirituale fino ad essere capace di comunicare agli altri i doni divini che possiede. Ma vi devo dire di più. A rendere meravigliosa e luminosa la vostra missione vi è la carità, cioè l'amore di Dio e del prossimo che fa muovere le menti e riscalda i cuori. Per cui una stessa azione compiuta con questa carità che emana da Dio stesso, viene trasformata e da umana diventa divina. Le opere che voi compite possono perciò rimanere umane e possono cadere nel dimenticatoio. Possono fare di voi delle buone persone, ma non dei perfetti cristiani. Ogni missione va misurata col termometro dell'amore. È come il mezzo per purificarle l'amore e per togliere da esse tutte quelle scorie che le rendono sgradite. Le scorie dell'egoismo e del proprio interesse. Così, alla luce della speranza cristiana, voi vedrete ogni azione diventare mezzo di santità e di conquista. Non per nulla alcuni santi dicevano, è tanto grande il bene che aspetto che ogni pena mi è diletto. La speranza addolcisce ogni pena, distrugge le difficoltà, e dà le ali per camminare nella via del Signore. Così vi voglio, figli cari che frequentate questo bel gruppo, compresi dell'importanza della vostra missione, che, anche se in apparenza è quella della mamma, dell'insegnante, dell'infermiera, dell'operaio o dell'impiegato, missione semplice e comune, diventa una missione specializzata in cui si riflette la presenza di Dio e l'attesa del Paradiso. Al Paradiso dovete tendere con tutte le vostre forze agendo con la maggior perfezione possibile. Vi benedico tutti, figli, e vi aspetto ogni giorno accanto al mio altare per ricolmarvi di grazie. Sono la Madre della Santa Speranza, Regina di tutti i cuori.